Ti avete visto Innovation Village World, questo bel progetto, raccontaci. Beh, Mosaic nasce con l'idea di innovare il mondo della scuola, soprattutto sugli aspetti inclusivi. È un kit di oggetti intelligenti, ma combina anche la formazione dei docenti per permettere di creare attività inclusive ai bambini con disturbi cognitivi e al resto della classe. E costruire un percorso che migliori la vita, sia dei bambini con disturbi cognitivi, ma anche di tutti gli altri bambini che vivono con loro. Dici anche da chi nasce, con chi nasce questo progetto? Beh, questo progetto nasce da tante persone. Mette insieme da una parte la Fondazione Cariplo, che ha voluto e ha finanziato inizialmente questo progetto, varie onlus che hanno partecipato e che continuano a collaborare con noi e poi tutta una parte di docenti che attivamente hanno lavorato con noi tutti i giorni per costruire le attività. Quindi un team molto ricco, molto variegato, che mette insieme il meglio di vari ambiti.